E adesso parliamo di lavoro perché la domanda di lavoro cala a fronte di una offerta che invece sta crescendo. Giulia Soligon. Aumenta l'offerta di lavoro ma decresce la domanda di chi effettivamente un'occupazione la sta cercando. Il motivo pare sia in atto ormai da più di due anni un cambio di mentalità da parte dei lavoratori sempre più proiettati a trovare un equilibrio tra vita privata e lavoro dove quest'ultimo non deve più portare a compromessi e dove soprattutto ci si possa sentire parte di un progetto comune. In fatto c'è stato proprio un cambio di paradigma nel mondo del lavoro cioè se prima il lavoro è rimasta ovviamente una parte importante e fondamentale ma se prima era un metro di giudizio per identificare il successo la qualità della vita eccetera non è più così. c'è sempre una maggior necessità e anche le aziende devono farla propria di capire che ci vuole un bilanciamento tra quella che è la vita privata e la vita lavorativa. A volte vale anche più dello stipendio, della retribuzione, la possibilità di vivere in un ambiente sereno, positivo in cui ci si sente parte anche di un progetto quindi anche la condivisione delle decisioni, la partecipazione, la possibilità anche di fare l'abbiamo detto più volte smart working quindi conciliare la vita privata con la vita lavorativa ed è possibile.